questo è un camion per la legna porta la legna per costruire le case il camion è molto forte ha molte ruote contiamole 1, 2, 3, 4 e ne ha altrettante dall'altro lato 1, 2, 3, 4 i ceppi di legno sono tenuti insieme con delle cinghie si possono sciogliere e spostare oh no! una cinghia si è rotta e i ceppi sono caduti ecco il bulldozer guarda che pala che ha con la sua pala il bulldozer raccoglie facilmente la legna i ceppi sono stati raccolti ma il bulldozer non li può caricare sul camion ci aiuterà la gru all'estremità del suo lungo braccio c'è uno strumento per sollevare le cose con il suo aiuto il camion riuscirà a caricare la legna attraverso il camion riuscirà a caricare la legna anche pescoglie attraverso la legna attraverso il camion riuscirà a caricare la legna e che faccioglie che sia il d'occhio attraverso un amicino Fatto! Adesso la gru porta la legna al cantiere Il camion per la legna va a farsi riparare Macchinine, macchinine, ruote e cabine Le spingi e filano, a volte si infilano Urliamolo insieme, dai! Macchinine! Macchinine, macchinine Hanno fari e lucine Costruiscono e scavano, consegnano, sollevano Puliscono, sistemano, soccorrono e scaricano Sono tutte qui per te Macchinine, macchinine Ruote e cabine Le spingi e filano, a volte si infilano Urliamolo forte, dai! Macchinine! Macchinine, macchinine Hanno fari e lucine Le spingi e filano, a volte si infilano I trattori vanno al lavoro Se puliamo questo campo avremo un bellissimo pascolo Al lavoro! Lo spingi e filano, a volte si infilano E' un po' Grazie. Qui ci vuole un aiutante. Il trattore con il braccio decespugliatore porterà via molti più rami. Qui ci vuole un aiutante. Qui ci vuole un aiutante. Grazie. Ottimo lavoro! Mettiamo un recinto. Mettiamo un recinto. Ed ecco i cavalli. Brucheranno l'erba nel nuovo pascolo. Mettiamo un recinto. 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 Mettiamo un recinto.